Noi dobbiamo essere più squadra, siamo troppo carini e poca squadra. Noi dobbiamo essere meno carini e più squadra. Piccini e Meduri bene, Barbuti non bene e quindi di conseguenza faremo riferimento a queste cose qui. L'Angeletti purtroppo ha preso questa distorsione, ne avremmo fatta a meno di tutte queste assenze. Purtroppo sono assenze che rompono le scatole. Perché avere Barbuti, avere Dall'Oglio, avere Di Bella, avere Piccini, averla avuta l'altra sera con l'Andrea. E' evidente che un allenatore preferisce avere tutti e poi fare la parte più brutta del suo lavoro. Cioè di fare delle scelte e di mandare gente in tribuna e gente in panchina. Perché quella è un po' la parte più brutta. Però voglio dire, io voglio sempre avere tutti i giocatori a disposizione per fare delle scelte. Le scelte non devono essere dettate dall'infermeria. Non c'è reparto, qui ci sono due reparti. Un reparto quando si attacca e un reparto quando si difende. Si bisogna attaccare in undici e difendere in undici. E in mente dei cambiamenti, più su piano come ecco, c'è da avere tanti giocatori? No, non è che io arrivo e voglio cambiare, mi diverto a cambiare. E' evidente che devo far giocare chi mi dà più garanzie per quella partita. Poi ci mancherebbe, si sbaglia. L'importante è fare meno danni possibili. Di scienziati qui non ce ne sono anche troppi in giro. Quindi l'unica cosa che voglio fare io è cercare di fare meno danni possibili e di mettere in campo una squadra che mi dà più garanzie per quella partita. Sicuramente dobbiamo dargli una gioia perché sono, mi immagino, mi immagino, uno che ama il Barletta, uno che vive per il Barletta, ritrovarsi in questa situazione deve essere allucinante. E quindi, voglio dire, noi da parte nostra, poche chiacchiere e molti fatti. Questa è la realtà. Perché di chiacchiere penso che questi ragazzi che ci danno sempre una mano, anche fuori casa, eccetera, eccetera, l'hanno già sentito troppo.